rabbia e rassegnazione nelle parole della titolare del bar polvere di caffè a santorso di fano per l'ennesimo scempio del suo locale ad opera di ladri che per la quinta volta in poco tempo hanno fatto irruzione nel suo locale sono entrati ma ormai non c'è più nulla da prendere porto tutto a casa ci dice perché ormai non mi fido a lasciar più nulla qui sono entrati alle 23 30 di domenica 21 febbraio le videocamere hanno ripreso tutto sono in tre a volto coperto dopo aver spaccato la vetrata sul retro accanto a quella rotta dai loro predecessori hanno forzato rompendole due porte chiuse senza trovare nulla di cui appropriarsi dopodiché si sono diretti verso il bancone e forzato il cassettino della cassa rubando le poche centinaia di euro del fondo cassa tutto qui il bottino niente sigarette le poche che rimangono nel locale sono blindate e niente grattini che avevano fruttato ai ladri della scorsa volta un bottino di oltre 10.000 euro i danni alle strutture del locale ammontano a mille euro e dopo l'ennesimo furto l'assicurazione ha voluto disdire il contratto e per ora nessun'altra avrebbe intenzione di coprirlo visto si tratta del quinto furto messo a segno in soli pochi mesi e in sei anni di gestione pensate ne contano più di 10 le immagini ora della video sorveglianza sono state acquisite dai carabinieri che indagano sul furto parlano più di 6 lesmone ammontano chiunque